La forza incredibile del fiume Pescara lunedì 2 dicembre 2013 Una velocità mai vista, una portata enorme, è in basso a tutte e due le golene, sia nord che sud e giudizno, Anchor Karl Palazzo Stavia una folla incredibile sta radunando sul ponte alle 11 e un quarto di notte da notare la velocità uno spettacolo mai visto prima un quarto di notte un quarto di notte